Il vostro sguardo mi dice di sì, vi ringrazio perché siete presenti, credo che sia un incontro con la stampa causato, indotto si direbbe, è un incontro con la stampa indotto da una sentenza della Corte Costituzionale. Io sono convinto del fatto che a livello della Corte Costituzionale ci sia sapienza, competenza, consapevolezza, quindi il portato di questa sentenza è fermezza. Di quale sentenza parliamo? La 235 del 2021. Chi ha sollevato il giudizio di costituzionalità è stata la Corte dei Conti abruzzese. La Corte dei Conti abruzzese ha messo in discussione la condotta della Regione Abruzzo relativamente al documento di bilancio 2018 e poi ha messo in discussione anche una legge dello Stato, una legge dello Stato straordinariamente utile per quanto riguarda la condotta di Regione Abruzzo, di Regione Campania, di Regione Piemonte e di altre Regioni che hanno saputo ma anche richiesto che uno strumento dello Stato permettesse di ventennalizzare il debito ereditato. Io uso questo participio passato, ereditato, perché nel caso dell'Abruzzo si è trattato di un debito ereditato. Qual è la questione sollevata dalla Corte dei Conti e lavorata dalla Corte Costituzionale? Che un debito ereditato non si può ventennalizzare. Noi siamo stati la Regione che ha preso tre iniziative. Primo settennalizzare il rientro dal debito, poi decennalizzarlo e poi ventennalizzarlo. Come mai Regione Abruzzo ha posto l'iniziativa di allungare i termini di rientro rispetto al debito ereditato? Perché se non facevamo così non avremmo avuto agibilità di spesa sui diritti fondamentali postici dai cittadini, postici dalla comunità delle persone. Per esempio i diritti riguardanti la trasportistica, i diritti riguardanti le borse di studio, i diritti riguardanti ecco un fatto che è recente l'acquisto dei pullman che stanno popolando la viabilità statale e provinciale abruzzese. Noi determinando lo spostamento in avanti dell'obbligo di restituzione di copertura rispetto ad un debito ereditato dalle passate legislature regionali, quel debito che determinò il commissariamento della sanità abruzzese, un commissariamento che si è poi concluso e superato grazie alle politiche messe in campo dal governo regionale della mia amministrazione con Paolucci, assessore al bilancio e alla salute, grazie a quelle misure riuscimmo a togliere di mezzo il commissariamento e tornare una regione autonoma. Qual è stato il ragionamento in diritto sul piano della legittimità che ha fatto la Corte? Non si può un debito ereditato spalmarlo nel futuro altrimenti si scatena in danno delle future generazioni debiti e doveri derivanti dal passato. Ma noi non siamo stati la legislatura che ha prodotto quel debito, anche noi abbiamo ereditato quel debito e è stato talmente vero che il legislatore nazionale con Padoan Ministro ci diede una legge dello Stato, la 205 se non ricordo male, che consentì la ventennalizzazione. Vi faccio un esempio, un debito di 700 milioni di euro avremmo dovuto restituire a colpi di 70 milioni di euro l'anno, rendendolo ventennalizzato diventava 35 milioni di euro l'anno e 35 milioni presentava disponibilità e capienza di investimento. Vi faccio una domanda, quando voi avete sentito rispetto ad aziende che conoscete, aziende che hanno ereditato un debito da investimento, da gestione del passato, la prima cosa che fa un'azienda concorda con la banca un piano di rientro allungato sul futuro, la stessa cosa che ha fatto Regione Abruzzo. Quali sono gli argomenti di forza che abbiamo noi nel fare anche questa conferenza stampa? che il debito non era generato nei 60 mesi 2014-2019, ma era un debito derivante dal decennio precedente. Noi nei nostri 60 mesi abbiamo ridotto di 300 milioni di euro il debito, con documenti contabili fotografati che ci hanno permesso di uscire dal commissariamento. Che si fa a questo punto? Intanto ricordatevi bene un altro elemento di forza, non abbiamo fatto noi un'operazione incerta, abbiamo fatto un'operazione certa sulla base di una legge dello Stato invocata da noi e prodotta, la legge 205 del 2017. Una legge dello Stato ha consentito la ventennalizzazione, la sentenza della Corte Costituzionale prende di mira sia la legge regionale abruzzese, che ha approvato il bilancio del 2018, sia la legge dello Stato. E tenete conto che non è successo nel passato lontano perché nel passato lontano si era scelto di non approvare i conti consuntivi. Il conto consuntivo è un documento che fissa l'igiene dei documenti contabili. Il conto consuntivo dà luogo alla fotografia esatta della situazione dei conti di un ente. Noi, prima di concludere la legislatura, per ragioni riferite al patto sottoscritto per uscire dal commissariamento, abbiamo approvato i conti consuntivi. Approvando i conti consuntivi ha avuto rilievo il debito, ha avuto rilievo il debito voi lo dovete coprire e noi lo abbiamo coperto producendo attraverso un accordo col Parlamento nazionale e col governo una legge ad hoc che ha consentito di ventennalizzare. La Corte Costituzionale dice che 20 anni sono troppi, va coperto il debito con anni minori. Se gli anni sono minori è maggiore l'esborso annuale, se è in maggiore l'esborso annuale c'è il rischio di tagliare i diritti fondamentali. Ma dove sta il colpo di teatro per il quale io mi convoco? Perché fin qui lo poteva fare il direttore di ragioneria, tra l'altro è molto bravo, non è sempre compreso, ma è molto bravo quello abruzzese, il direttore Bernardini, poi c'è un dirigente valente che prima era stato anche direttore delle risorse, il dottor Ebron d'Aristotile, lo potevano fare loro la conferenza stampa. Se no decisi di farla io c'è una ragione. Pescara non è una città qualsiasi sul rapporto tra diritti fondamentali e documenti di bilancio. Un valentissimo magistrato del TAR di Pescara, Balloriani, che io mi permetto di citare, ha fatto dire alla Corte Costituzionale, alla stessa Corte Costituzionale, la Corte di Cassese, di Amato, di quelli che conoscono il diritto e i diritti fondamentali, che i diritti fondamentali delle persone prevalgono sulla sanezza di bilancio. Non so se vi ricordate, ma non l'avete scritta a suo tempo, pur essendo una sentenza storica che mette in discussione questa coppia, diritti fondamentali, documenti di bilancio. La provincia di Pescara negò l'estendimento dei doveri di copertura per il trasporto della popolazione scolastica con diversa abilità. C'erano dei ragazzi con diversa abilità che avevano bisogno di trasporto scolastico. La provincia disse non ho risorse, non posso farlo. Una famiglia fece ricorso al Tar, il Tar di Pescara, con iniziativa a firma di Balloriani, sollevò la legittimità costituzionale della norma citata dalla provincia. La Corte disse i diritti fondamentali prevalgono rispetto ai documenti contabili. In ragione di quella sentenza noi abbiamo detto che dobbiamo trovare un'agibilità contabile che ci consenta di risanare, non in tre anni, in quattro anni, come chiedeva la vecchia legge dello Stato, ma lo vogliamo fare con un numero di anni che non ci tolga la capacità di garantire i diritti fondamentali. Ci siamo mossi all'interno di questa cornice. Vi assicuro che il Governo della Repubblica è molto sensibile su questa questione e troveremo insieme regioni italiane, governo del Paese è la soluzione a questa sentenza. Diciamo che questa sentenza della Corte è una sentenza interinale, che ha un valore emblematico, simbolico, non ha un valore definitivo, perché non c'è pubblica amministrazione italiana che possa adempiere rispetto a obblighi di copertura in un tempo breve rinunciando a garantire i diritti fondamentali. È una grande questione, interessante, mi piacerebbe fare un dibattito in tribunale su questo. Sono convinto che convincerei tutti. Come riuscì a fare, sollevando la questione di legittimità costituzionale, il giudice Balloriani, già autorevole e carabiniere, vincitore di concorso, componente dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, convincendo tutti. Io lo feci parlare anche ad un convegno sui diritti fondamentali alla presenza di Attali, perché c'è un dibattito anche in sede europea su che ruolo devono avere i diritti fondamentali. Io regalerò un testo all'assessore Liris, che di formazione fa il medico, dispone anche di tutta la mia simpatia, ma ci vuole più pesantezza nell'affrontare questa questione. Diciamo che ci vuole una renuncia alla leggerezza per affrontare questa questione. È una questione che sta impegnando anche le cancellerie europee, oltre che le migliori università. Spero di essere stato chiaro, ma mi sento invitato a nozze da questa sentenza per ritrovare la dignità della politica e del diritto. Questo riguarda solo l'Abruzzo? Per adesso solo l'Abruzzo, dopodiché riguarderà tutti coloro i quali hanno adottato questa misura. Prego. Sì, questa è la domanda che mi poni, è uno degli elementi delicati di questa sentenza, nel senso che si dichiara improcedibile per difetto di procedura l'aggressione, il ricorso alla norma nazionale e quindi si limitano a sentenziare sulla legge regionale che a sua volta dipendeva appunto dalla norma nazionale. È evidente per questo motivo, poiché aggredisce con quelle motivazioni lo spirito della norma nazionale, lì ci sono altre 5-6 regioni che è un tema che il governo, appunto come diceva il Presidente Alfonso, esattamente. Ve ne parlo diciamo come dato cognito, il fatto che non è una questione confinata in Abruzzo, chiama in causa il governo del paese, adesso si tratta di essere non emotivi, non neroniani, non leggeri, ci vuole un cappotto adeguato, Monti quando affrontava i documenti contabili, indossava il Loden. Quindi in attuazione alla Regione, all'assessore di assumere il ruolo determinante... Come facemmo noi guadagnando la norma 205 del 2017 e il Ministro Padoan la venne a comunicare presso il teatro dei Maruccini di Chieti. Venne Padoan, venne Renato Massoncini, c'era anche il sostituto procuratore presso la Corte dei Conti dell'Aquila, attualmente giudice di appello della Corte dei Conti, Erika Guerri, responsabile dei rapporti internazionali della Corte dei Conti, quando presentammo la norma Abruzzo per consentire la ventennalizzazione del rientro dal debito. Noi non abbiamo fatto, come si può dire, come avrebbe voluto fare quell'azienda di Tocco Casauri rispetto ai debiti accumulati, decise lei, quell'azienda, di fare un piano di rientro con l'allora Cassa di Risparmio di Chieti. Noi abbiamo fatto un piano di rientro dopo che è nata una legge dello Stato ad hoc e la condotta più lineare che era possibile. Adesso per risolvere questo problema, che non sarà solo dell'Abruzzo e non sarà solo delle regioni, anche dei comuni, Napoli per esempio, Roma per esempio, Torino per esempio, c'è bisogno di pluriennalizzare il ragionamento culturale quasi di teologia del diritto che ha fatto la Corte Costituzionale, Benedetto Amato e Benedetto anche Sabino Cassese quando loro hanno presieduto, è il futuro delle generazioni, quanto carico si devono prendere del debito del passato. Il punto è il presente delle generazioni, se rinuncia ai diritti fondamentali, che qualità della vita hanno se non c'è questo ragionamento di lungo periodo. Ecco perché ci vuole il Loden. C'è un'azienda pescarese che fa Loden di grandissima qualità, De Tomasis, sta vicino Spoltore. Se ci sono domande mi sento proprio coinvolto. Grazie.